L'amministrazione comunale di Montesilvano parte con il progetto ambizioso e non più rinviabile di quattro poli scolastici in altrettanti punti strategici della città. Ad illustrarli in consiglio questa mattina l'assessore Tereo dell'Anderset. L'approvazione di questi progetti preliminari che sono invariante al PRG e che prevedono degli espropi e riguardano le scuole. Sono le scuole che Montesilvano che ne ha bisogno, cresce di mille abitanti all'anno, ovviamente, ma se si fa che l'edificato ovviamente che ci verranno anche ad abitare, quindi ci verranno famiglie, giovani coppie, bambini e purtroppo però, ma questa è stata una scelta urbanistica che è mancata precedentemente, perché le scuole stanno scoppiando e noi ogni anno siamo costretti a fare degli interventi spot che non risolvono il problema, sono interventi che vanno ad ampliare delle aule, a mettere delle direzioni didattiche in degli appartamenti in affitto per liberare delle aule. Non se ne può più, siamo arrivati al punto che non si può più andare avanti, dobbiamo fare nuove scuole e questo è il nostro intervento. Quattro scuole nei quattro quartieri di Montesilvano. Un progetto condivisibile, secondo le opposizioni, che criticano il metodo e palesano forti perplessità per il parere espresso dai revisori dei conti. Però ho paura che tutto ciò sia tutto fumo e niente arrosto, un po' di pubblicità per dire abbiamo fatto questo, abbiamo messo in cantiere di fare questo, ma ho paura che non vedremo quasi nulla di tutto ciò. Ripeto, portare una variazione di bilancio con i pareri negativi dei revisori dei conti, che hanno fatto un lavoro tecnico, è una forzatura bella e buona e procurerà tanti e tanti guai per i prossimi anni a questo comune. Forse perché pensano di non stare più loro all'amministrare e così lasciano una situazione difficile. Probabilmente è così. L'amministrazione difende le sue scelte, anche dai rilievi dei sindaci contabili. Nella mia vita faccio il ragioniere capo in un ente pubblico, quindi diciamo di bilanci pubblici che me ne intendo, e ritengo che quel parere manchi proprio di fondamento. La riunione odierna si era aperta con la surroga dei consiglieri comunali Manola Musa e Pietro Gabriele, neoassessori al loro posto sui banchi di maggioranza siedono Maurizio Russi ed Emilio Dicenso. Prende il posto di Walter Cozzi Vittorio Catone, da questa mattina nuovo presidente del Consiglio Comunale di Montesilvano. Grazie.